Care soci, care soci e cari soci, sono molto non contento perché non è il momento della contentezza, come si dice, però sono molto soddisfatto e mi fa molto piacere che così tanti soci e così tante soci abbiano deciso di unirsi a noi. Noi abbiamo anche ritenuto di aprire il canale a studenti, dottorandi, non iscritti, con una scelta che la Presidente ha voluto fare e che mi trova assolutamente d'accordo. Per fortuna abbiamo comprato anche un'espansione di Zoom, mi dicevano, per cui possiamo arrivare a mille. Io non credo supereremo le mille, quindi penso che riusciremo a ospitare tutti. Ringrazio moltissimo la Cisco, il direttivo, la Presidente, Marco Aterrano che ci sta fornendo il supporto tecnico per questo dibattito su una cosa drammatica, una cosa che io credo, al di là della sua terribilità, su cui sentiremo, che tutti viviamo in modi diversi, ma tutti viviamo, ci costringe a pensare, a chiederci cose, a capire cose in modo nuovo, io credo. Io, i partecipanti, come voi sapete, sono Simone Attilio Bellezza, che è un ricercatore di tipo B della Federico II, che come voi sapete è il più forse coinvolto direttamente nella vita ucraina, ha parenti in Ucraina e vive la crisi in Ucraina in maniera anche umana e personale, quindi diciamo invito tutti a tenere presente anche questo. Abbiamo poi Alberto Masoero, professore a Torino, che posso dirlo, Alberto, non credo di dispiacere nessuno, anche perché siete pochi, il miglior specialista della Russia azzarista in Italia, non credo ce ne siano altri, quindi è un gioco facile, diciamo. Se non è il migliore, il secondo, perché sono in due, il penultimo, l'altro è l'ultimo. Abbiamo poi Simona Merlo, che è una professoressa associata di Roma 3, anche lei grande esperta di Ucraina, ha scritto sull'Ucraina dei bei libri. Abbiamo Niccolò Pianciola, a cui do un benvenuto speciale, perché non so se è la prima manifestazione pubblica, ma sicuramente è stato per dieci anni all'estero, Hong Kong prima, in Kazakistan poi, insegnando. Adesso è professore associato all'Università di Padova, che l'ha chiamato, io credo con un gesto molto intelligente, perché Niccolò è un grandissimo specialista di Assa Centrale, ma anche di questioni nazionali, e non solo nell'impero zarista e l'Unione Sovietica. E poi ci sono io, che faccio da coordinatore di questa cosa. L'idea sarebbe di organizzarla in questo modo. Facciamo partire un dibattito con interventi 10-12 minuti, io spero di non dover togliere la parola a nessuno, in un ordine, prima non cronologico, perché per ragioni evidenti, ma anche perché credo interessi a tutti noi, farei prima parlare Simone, che ci farà un quadro sia del momento attuale e anche dell'Ucraina post-Sovieta in questi ultimi anni, diciamo, quello che lui ritiene sono gli elementi essenziali, perché penso che tanti di noi, benché siamo tutti storici, oggi l'interesse anche per un aggiornamento di una persona così addentro alle cose ucraine odierne, sia una cosa importante per tutti. Poi Alberto ci parlerà dell'impero russo e della questione, non solo Ucraina, dell'impero russo. Niccolò Pianciola, della questione delle nazionalità in Unione Sovietica in generale, voi sapete che Putin ha dato a Lenin di tutte le persone la colpa della nascita dell'Ucraina, è vero che Lenin non era un nazionalista grande russo, questo va detto, diciamo, però imputargli la nascita dell'Ucraina è abbastanza, come dicono gli americani, far-fetched, insomma è assurdo. Dopodiché parlerà, dopo Niccolò parlerà appunto Simona sull'Ucraina sovietica in particolare, perché noi siamo storici, quindi come vedete c'è un nutrito programma di storia anche, che io spero possa dare a tutti delle informazioni. Sono quattro persone, io spero che in cinquanta minuti riusciamo a finire, cioè per le sette meno dieci, a quel punto io aprirei a domande che possono essere fatte in due modi, uno alzando la mano e due scrivendo sul test, sulla chat. Naturalmente chi scrive sulla chat ha più rischi di non farsi vedere, ma siamo tanti. Ecco, la cosa vera che vi dico è che saranno domande di due minuti, quindi domande possibilmente dicendo a chi è rivolta la domanda e poi ponendo la domanda in una discussione tra storici, non è un dibattito appunto di interventi per dire la propria, ma per esprimere curiosità, eccetera, eccetera, domande interessanti, io spero e sono sicuro. Faremo domande per circa venti minuti, dopodiché io darò la parola, partendo da Simona Merlo, perché alle sette e mezza deve lasciare l'università dove si trova, per delle risposte, ognuno di noi risponderà alle domande rivolte direttamente a lui, ognuno di voi, e poi naturalmente se qualcuno vuole dire qualcosa in più, chiudendo, insomma io darei a ciascuno dei relatori cinque, sei minuti per rispondere alle domande che gli sono state rivolte e per dire qualcos'altro se intende farlo. Io se sarà il tempo mi riservo, spero che tutti rispettano i tempi, cioè spero che le domande le chiudiamo alle sette e dieci, dando cinque minuti a testa si fanno le sette e trentacinque, io mi riservavo quei dieci minuti finali, perché poi saranno le sette e quaranta sicuramente, poi tutti vogliono andare a cena, dieci minuti per raggiungere anch'io, se solo se c'è il tempo, alcune considerazioni personali. Come molti di voi sanno io studio la Russia, l'Ucraina, l'Unione Sovietica da tanti anni, anzi decenni, sono molto ferito e colpito da questa cosa, sia dei miei amici russi che dei miei amici ucraini, della situazione, e quindi diciamo pure io spero di avere il tempo di dire qualcosa, ma la cosa è fatta per voi e non certo per far parlare a me. Allora io darei senz'altro, chiedendo prima per curiosità quanti siamo arrivati, Marco, a Terrano? trecentotrentacinque, in questo momento trecentotrentasei. Siamo trecentotrentasei persone, che insomma è un bel risultato, io sono molto contento che la Cisco abbia fatto questa cosa, e se c'è interesse naturalmente la rifaremo, ecco, non abbiamo nessun problema a ripeterci. In altra forma, non in questa, magari con delle, vediamo le domande, se ci possiamo fare dei webinar di approfondimento delle domande più, diciamo, profonde, più interessanti. Ecco, quindi io darei assolutamente adesso la parola nell'ordine che vi ho annunciato a Simone Attilio Bellezza, che ringrazio moltissimo, che deve ricordarsi di accendere il microfono, e a cui do la parola. Grazie Simone. Grazie, grazie mille Andrea, grazie all'Assisco Tutto, a Tutta, e a Giacaglioti per aver organizzato questa serata. Ovviamente questo è un tema che mi sta molto a cuore personalmente, ma anche, come dire, scientificamente. Allora, io oggi, nel poco tempo che ho, vorrei cercare di provare a spiegare perché, secondo me, il dissidio che c'è fra Russia e Ucraina è di fatto un dissidio, una differenza che è nata nella, diciamo così, amministrazione della trasformazione post-sovietica di questi due paesi. Io ritengo che, e non solo io, ritengo che di fatto, Russia e Ucraina, quando escono dall'Unione Sovietica all'inizio degli anni 90, sono due stati molto simili, sono simili socialmente, sono simili culturalmente, sono simili economicamente, e poi questi iniziano man mano a divergere sempre di più, e questa divergenza su come si organizza la società, su come si organizza l'economia, su come si organizza la politica, li porta di fatto al conflitto odierno. Io credo che il momento di svolta, noi siamo storici, quindi dobbiamo individuare i momenti di rottura, il momento di svolta di rottura sia il biennio fra il 1999 e il 2001, un biennio nel quale in Russia noi abbiamo Putin andare al potere, e quindi un personaggio che, come dire, inizierà, tra l'altro per alcuni storici, e io sono concorde con loro, durante il primo mandato anche farà bene a centrare più potere nello Stato che lui sta dirigendo, perché doveva, come dire, limitare la violenza che c'era nella società russa post-sovietica, eccetera, eccetera. Mentre invece dall'altra parte, dalla parte ucraina, proprio in quel biennio, noi abbiamo, come dire, l'esordio in politica di un personaggio come Viktor Yushchenko, che è una, che diventa, era governatore della Banca Centrale, diventa primo ministro di un governo ancora dominato dagli oligarchi, inizia a fare delle riforme che sono contro gli oligarchi, che sono immaginate per far entrare l'Ucraina in un futuro futuribile all'interno dell'Unione Europea, che in quegli anni, negli anni novanta, veniva visto un po' come la terra dell'oro, la terra della ricchezza, della sicurezza per tutti, ed è lì che si consuma una differenza perché quando Viktor Yushchenko viene mandato all'opposizione, in Ucraina inizia a, come dire, sedimentarsi una politica diversa, una politica che darà luogo a una serie di rivolte e di rivoluzioni che vanno a riempire di significato l'identità ucraina come comunità politica nata nel 91. Se noi guardiamo all'Ucraina nata, appunto, dopo l'Unione Sovietica, dopo l'URSS, giustamente gli storici concordavano sul fatto che era uno stato debole, uno stato con uno statuto nazionale, no? Era una stato nazionale molto debole, c'erano tanti russi. La decisione che viene presa dal presidente Kravchuk, il primo presidente dell'Ucraina, è quella di dare, per esempio, la cittadinanza a tutti i residenti dell'Ucraina nel 91, non si fa come in Lettonia, no? Per cui i russi o i russofoni vengono esclusi dalla cittadinanza. E chiaramente, come dire, c'è una certa difficoltà a immaginare che cosa sia un'Ucraina indipendente diversa dalla Russia. Ebbene, gli studi che sono stati fatti, studi sociologici, studi antropologici, a partire dagli anni 2000, hanno dimostrato che sempre più, anche nelle regioni di confine, anche per esempio Kharkiv, cito gli studi di Tetiana Giurgenko sulla Slobodanshina, per esempio, hanno dimostrato che sempre di più gli ucraini hanno iniziato a connettere la loro particolarità rispetto alla Russia, nelle lotte, nelle proteste che man mano venivano fatte per la conquista, diciamo così, della democrazia, per le riforme del paese, per trasformare il paese in un membro dell'Unione, per occidentalizzarlo, per europeizzarlo. Le proteste sono state tante, sono state anche più di quelle che hanno fatto notizia dal punto di vista dei grandi media, abbiamo un primo momento di protesta grande fra il 2000 e il 2001, poi abbiamo, ed è un momento anche particolare di protesta perché mentre in Russia si perfezionava la tecnica di uccidere i giornalisti scomodi per il potere, le proteste del 2000 e del 2001 nascono in Ucraina proprio quando Kucma, il presidente, viene accusato a seguito di una registrazione di aver ordinato l'uccisione di un giornalista, Gheorghi Gongazze, particolarmente scomodo, e lì c'è, come dire, una prima insurrezione, badate bene, tra l'altro queste, quelle del 2000-2001, sono proteste violente, proteste che vengono poi represse nel sangue. Poi c'è la rivoluzione arancione, la cosiddetta rivoluzione arancione del 2004-2005 che invece è una rivoluzione cosiddetta pacifica perché gli organizzatori di queste proteste che contestano il risultato del secondo turno delle presidenziali fanno attenzione a non venire mai allo scontro con le forze della polizia e riescono a convincere una parte dell'elite a cedere e quindi a concedere un terzo turno delle elezioni nel quale varrà eletto proprio quel Viktor Yushchenko che era partito anche con le proteste degli anni 2000. E poi negli anni successivi con la presidenza di Viktor Yanukovych, che probabilmente ricorderete, il quale scopia quello che succede in Russia, sia quello che Putin stava facendo in Russia, cioè la costruzione di un regime sempre con un potere accentrato e meno democratico, abbiamo lo scoppio di quello che è stato chiamato da noi l'Euromaidan e che gli ucraini invece chiamano rivoluzione della dignità perché è la rivoluzione della dignità nazionale, ma che si riempa, badate bene, sì certo di riferimenti al passato, alla mitologia cosacca e così via, ma badate bene, il contenuto della protesta è noi siamo liberi, noi siamo democratici. Se voi andate a vedere anche la retorica dell'Euromaidan, della rivoluzione della dignità, c'era questa idea di trovarsi tutti nella piazza e di come una comune esprimere democrazia dal basso, così come facevano i cosacchi. Il vero mito storico dell'Euromaidan sono i cosacchi, infatti se vi ricordate le foto di quel tempo ci sono anche tanti personaggi vestiti da cosacchi del 600, del 700, fra la popolazione, c'è quell'idea lì. E badate bene, in questo io credo, l'Ucraina è stata un esempio di trasformazione di successo in una democrazia. La democrazia che nasce dall'Euromaidan, dalla rivoluzione della dignità, è una repubblica nella quale vengono fatte delle elezioni democratiche, nelle quali c'è addirittura, se volete, l'alternanza al potere, perché il presidente che viene eletto nel 2014, nel bandato successivo, alle elezioni successive, perde e viene sostituito da un altro e diventa invece il primo esponente dell'opposizione. Questo elemento, quello della democrazia, inizia a essere importante. Gli ucraini iniziano, anche in base proprio a queste ricerche sociologiche e antropologiche, a immaginarsi come quelli che insorgono per la libertà, quelli che insorgono per la democrazia. E lo fanno, badate bene, sempre con riferimento a un esempio negativo che è quello della Russia. C'è un esempio negativo per tutti loro che è la società russa. Vogliono prendere sempre più le distanze. Questo fa sì che l'Ucraina, da una parte, progressivamente, oggettivamente, si allontani e cerchi di liberarsi dalla sfera di influenza russa, nella quale era stata lasciata dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991, e che dall'altra parte, come dire, rappresenti per Putin, che invece costruisce un regime dittatoriale sempre più forte, rappresenti, secondo me, la prova concreta che una società diversa, anche in Russia, una società democratica, un processo di democratizzazione in Russia è possibile. Perché le società erano così simili prima? si, come dire, si dimostra che se la democratizzazione dell'Ucraina funziona, allora forse è possibile anche farla in Russia. È da lì che, secondo me, nasce la paura forte di Putin nel confronto di quello che succede in Ucraina. Una paura che, badate bene, nasce nel 2004-2005 e io credo che questo abbia avuto un peso anche nel fatto poi che, adesso si è parlato tanto di Nato in questi anni, i rapporti fra la Nato e la Russia erano molto buoni negli anni 90 e molto buoni all'inizio degli anni 2000. Quali sono le ragioni per quali questi rapporti, i vari tavoli, le varie collaborazioni anche militari che c'erano fra la Russia e la Nato si interrompono? Secondo me si interrompono un po' lì, fra il 2003 e il 2005. E cosa c'è in mezzo? Ci sono tante cose, c'è la seconda guerra del Golfo, ma c'è anche l'Ucraina. La rivoluzione arancione per Putin è un segnale di allarme che poi successivamente, insomma, lo porterà a immaginare un'Ucraina diversa. Allora, il problema adesso, secondo me è questo, e vado a chiudere, non so se ho già fatto 12 minuti, ma più o meno siamo lì. Il problema è che gli ucraini hanno elaborato questa identità di comunità politica libera così forte e si sentono dire da Putin, dal discorso di lunedì scorso, che l'Ucraina non esiste, che la nazione ucraina non esiste, che non ha diritto a esistere e questo in un certo senso li costringe a combattere. La cosa che mi preoccupa di più di questi giorni, nonostante il fatto che per l'appunto abbia la famiglia sotto le bombe nell'assedio di Cernigiv, è che se sono sicuro che Putin può conquistare militarmente tutta l'Ucraina, l'Ucraina non si trasformi poi in un immenso Afghanistan dove, lo sappiamo, ci sono più di 300 persone arruolate nei cosiddetti corpi di difesa territoriale. Questi non andranno contro i carri armati, in parte un po' lo fanno anche, ma questi soprattutto costituiranno poi la base di una guerriglia, di una guerra partigiana che, badate bene, se succede non farà nient'altro che fare un sacco di vittime civili. Allora, quello che secondo me noi dovremmo fare è cercare di evitare questo tipo di scenario, questo è il mio auspicio, e di trovare un modo per discutere con Putin, di far discutere ucraini e Putin per evitare che la sconfitta dell'Ucraina militare si trasformi in uno scenario che è molto simile a quelli che ci sono stati in Cecenia, in Afghanistan, in Vietnam, anche se ovviamente con caratteri completamente diversi. Mi fermo perché ho preso troppo tempo. No, 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 va benissimo. Poi, insomma, data la situazione che tu parlassi un po' di più, l'avevamo immaginato, come si dice. Comunque, ti ringrazio molto, è una lettura molto interessante in tenna all'Ucraina e fa vedere effettivamente queste due società che a un certo punto divergono, diciamo così. Io chiederei adesso ad Alberto, visto che, diciamo, il passato conta, poi conta tante cose, conta anche quello appena successo, ma ci ha spiegato Simone, però Putin fa, dal suo punto di vista c'è una retorica che riprende temi di un passato imperiale russo, se ci vuole parlare un po' lui di queste cose. Alberto, grazie. Provo ad essere inevitabilmente schematico. Qui ci spostiamo su un altro piano, cioè come comprendiamo tutto questo. Io do abbastanza per scontato che questo sia una guerra russa, nel senso che è una guerra non russa del popolo russo, ma nel senso che viene da un regime, dal suo modo di immaginare se stesso e il mondo, e che questo, che io chiamo grumo di sentimenti e di idee, nasce da, è da vent'anni che va. Noi ne vediamo oggi la radicalizzazione. Come spiegare te? Questo è come riflettere. Io provo a fare un passo molto indietro, citando alcuni esempi, alcuni episodi della storia zarista, non certo per suggerire una inevitabile continuità e naturalmente non per suggerire causa e effetto. Alberto, è saltato l'audio. Si sente? Adesso sì. Non so se avete sentito. Insomma, tre esempi da usare come punto di vista per guardare l'oggi, per vedere. Uno, come occupare un pezzo di terra, nel caso specifico la penisola crimeana, viene associata nell'autopercezione di uno Stato come un simbolo che dà un'importanza oggi diremmo globale e anche la conquista di un passato maestoso. Secondo esempio, che ne so c'è tra il dentro e il fuori, la conquista, l'assimilazione di territori. Terzo esempio, la ricostruzione di uno spazio unico imperiale. Intendo questi tre esempi come parte di un modo di ragionare che poi possiamo confrontare con l'oggi e con quello che accade, ma è un dato di fatto. Primo, Crimea. Quando viene conquistata nel 1783, la Crimea, che è tatara e greca, quindi né Ucraina né Russia, è subito investita di un significato di portata gigantesca. È parte di un progetto di espansione visionario che non si realizza e che prevede la conquista di Istanbul, ovvero l'antica Bisanzio, la conquista di Gerusalemme, persino dell'Etionpia. Ma viene interpretata da tutto un apparato di celebrazione, di descrizione, ben studiato da Andrìa Izzori. Il libro di Izzori, io lo dico sempre, dovremmo davvero tradurlo in italiano, che ha questo significato. L'impero zarista torna alle sue origini greche. Classiche. Cioè, conquistare uno spazio che ha una sua rilevanza militare, eccetera, e però contemporaneamente accompagnato dalla conquista di un tempo, di un'origine classica, maestosa, discendiamo dalla Gerusalemme cristiana, discendiamo da Bizanzio, discendiamo dalla filosofia dei Greci. Ecco, questa costruzione che cosa suggerisce? Come l'espansionismo possa essere associato all'assumere un ruolo di grande potenza. E, in un'epoca completamente diversa, con tantissime differenze, pensate, quando viene annessa la Crimea, uno dei primi gesti simbolici che fa il governo russo è di inaugurare un monumento alla Conferenza di Ghianta. Conquistare la Crimea significa diventare quella grande potenza che si può sedere al tavolo e decidere i destini del mondo. Non è solo, è anche una questione di nazionalismo russo, ma c'è anche questa dimensione. Secondo esempio, come si concettualizzano i territori che si conquistano? L'impero zarista naturalmente si espande su un arco secolare. Mi sono un po' occupato di questo e ho cercato di far vedere che nell'impero zarista c'è sempre una forte resistenza ad adottare la lettura coloniale degli spazi. ma non perché l'impero zarista sia buono e gli altri imperi siano cattivi, sono cattivi tutti e due e in modi diversi, ma perché la cultura politica dell'autocrazia, a mio parere, inibisce, frena la decisione di definire anche ufficialmente colonie delle regioni conquistate. Da questo punto di vista, la categoria saidiana di alterizzazione in realtà spesso funziona al contrario. C'è un procedimento di autoimmedesimazione con i territori conquistati. Anche in regioni in Estremo Oriente, quando ci sono i momenti visionari di fine Ottocento dopo la rivolta dei boxer, la tesi è che noi non siamo come gli europei, noi siamo simili ai cinesi e quindi i cinesi sono destinati a sottomettersi allo zar. Altra visione folle che non si realizza mai, ma che spia di una tendenza all'autoimmedesimazione. Perché tipo questo? In testi come quelli pubblicistici che celebrano la conquista, l'avanzata in Crimea, sono spesso caratterizzati dalla retorica della affinità, essere un solo popolo. E quindi la conquista viene rappresentata come liberazione, detto molto, un po' brutalmente. Terzo punto, uno spazio post-imperiale che è immaginato come uno spazio che deve riunirsi. E qui c'è un problema comparativo. L'impero zarista finisce nel 1917 insieme ad altri imperi, come quello asburgico, nello stesso periodo, quello ottomano, eccetera, ma non dà luogo a degli stati successori, nazionali o non nazionali che siano. È oggetto di un processo di riconquista e di ricomposizione dello spazio. In questa fase, io leggerei il 1917 come un processo in cui ci sono tanti tentativi di ricostituzione dell'autorità, con alcuni tentativi più o meno effimeri e di segno molto diverso di costruzione statale, tra cui la rada ucraina, culmina poi nella riconquista, Kappeler nell'ultimo capitolo del suo libro parla di raccolta delle terre russe, che coincide però con la formazione di un potere unico che rivendica il monopolio dell'agire politico. Una discussione che è presente nel famoso ormai discorso di Putin, nel suo pamflet del luglio scorso, c'è questo tema, la discussione tra Lenin e Stalin sul diritto o meno di autodeterminazione e secessione delle repubbliche, contestualizziamolo, stanno discutendo di uno Stato che c'è già, stanno discutendo di uno Stato i cui confini sono stati definiti di fatto dall'Armata Rossa e stanno discutendo in uno Stato in cui i partiti che non sono il Partito Comunista sono già fuori legge e in cui le correnti del partito sono anche queste state abolite e quindi è un diritto di secessione virtuale in una nuova compagine il cui centro è comunque il partito e l'Armata Rossa. Perché mi dilungo su questo? perché direi una terza dimensione nella costruzione del progetto politico putiniano è precisamente la riaffermazione di un centro politico del potere. E concludo lasciando un po' la palla anche a chi mi segue per eventuali altre precisazioni, io vedrei, chiamiamolo il putinismo, come qualcosa che è caratterizzato da tre dimensioni tra loro in frecciato. L'individuazione di un centro personale sovrastante del potere capace di intimidire e che è legittimato in quanto porta la responsabilità. una seconda dimensione che è un obiettivo strategico di riunificazione dell'ex Unione Sovietica a guida mosquita e una terza dimensione che è il ritorno dello Stato al ruolo di una superpotenza etica, cioè che si percepisce come potenza che porta dei valori a livello globale. e chiudo con una frase inevitabilmente sintetica che lascio alla discussione, la gravità della crisi ucraina, ovvero la gravità della guerra, è connessa all'intersezione tra queste tre dimensioni che non riguardano solo, in altre parole, è per questo che l'Ucraina diventa una questione di vita e di morte vista dal reggito Putin. Grazie mille. Grazie per la pazienza. No, grazie a te, molto interessante. Grazie a te. Scusate, mi suona, l'ho chiuso. Scusatemi, mi ero scordato di chiudere il telefono, sono desolato. Mi sembra molto interessante, finora mi è sembrato davvero interessante, vi ringrazio molto, anche io sto imparando. e chiederei quindi a Niccolò Pianciola a questo punto di farci questo quadro un po' della questione nazionale, visto che è stato ripreso anche da Putin e Alberto ti ha dato un'introduzione molto utile di che cos'è questo problema, come la vedi te. Niccolò è un noto esperto di queste cose, anche. Prego. Grazie, grazie mille. Sì, io mi concentrerò appunto per questa breve presentazione, mi è stato chiesto di ragionare anche sulla dimensione reale dell'URSS e quello che sta succedendo rimanda al problema del, come dire, della relazione tra il nazionalismo russo e le sue varie incarnazioni e l'aspirazione all'autonomia e all'indipendenza della popolazione ucraina e del nazionalismo ucraino. Allora, questo problema è emerso in maniera politicamente centrale tra le due rivoluzioni del 1905 e poi del 1917 e la guerra civile e sostanzialmente l'Ucraina fu il centro, diciamo, fu il fattore più importante nella elaborazione, nella creazione del modo in cui l'Unione Sovietica gestì la diversità culturale e linguistica religiosa, in una parola, la diversità etnonazionale, per capirci della sua popolazione. ci sono state tre crisi gigantesche nella storia sovietica, ma ucraina soprattutto, della prima metà del Novecento, dalle quali sono emerite tre Ucraine diverse. In tutte queste tre crisi ci sono stati milioni di morti e queste tre crisi hanno portato a un ridefinizione, a un riposizionamento delle politiche della relazione tra Mosca e la popolazione ucraina. La prima crisi è quella della guerra, la prima guerra mondiale, rivoluzione, guerra civile, la seconda crisi, la grande carestia del 1932-1933, e la terza crisi, la seconda guerra mondiale. In tutte queste tre crisi Mosca interpretò il potere, a questo punto, bolshevico, interpretò, ma soprattutto nelle prime due, che sono ancora più cruciali nel definire appunto la politica della gestione della differenza nazionale in Ursa, vide una connessione tra resistenza della popolazione ucraina, innanzitutto cittadina, e minacce geopolitiche. nella prima guerra mondiale ovviamente la Germania conquistò l'Ucraina e la tenne sotto occupazione per circa un anno, e dopo ci fu la guerra civile, e durante la carestia ci fu qualcosa di comparabile in modo in cui cercherò di spiegare tra un momento. Allora, come è noto ormai da una ventina d'anni, ovvero dalla pubblicazione del più importante libro sul tema, so che qua tra noi, tra chi ci ascolta, ci sono molti che non sono specialisti di storia sovietica, mi scuso con gli specialisti perché queste cose le sanno, ed è l'impero della discriminazione positiva dello storico di Harvard, Terry Martin. Il governo bolshevico fu la prima formazione imperiale a confrontare, una citazione, confrontarsi con la marea avanzante dei nazionalismi rispondendo con la promozione sistematica della coscienza nazionale delle minoranze etniche e con la creazione di molte delle caratteristiche forme istituzionali dello Stato Nazione, fine della citazione. Queste forme istituzionali erano la delimitazione di unità amministrative etnicamente denominate e chiamate repugnate sovietiche, ma anche istituzioni culturali come università, accademie delle scienze repubblicane, case editrici, eccetera, eccetera. Cioè ci fu la costruzione di una cultura in lingue non russe, però appunto selezionando la classe dirigente, ovvero sterminando o espellendo chi era fortunato, abbastanza fortunato da andare in esilio e e quindi creando anche un'elite comunista locale e questa era l'altra colonna di queste politiche, la politica di radicamento o di indigenizzazione delle amministrazioni dello Stato e del Partito nelle varie regioni dell'Unione Sovietica in modo che la loro composizione etno-nazionale corrispondesse il più possibile tendenzialmente con la composizione della popolazione di quelle regioni. In molte regioni, soprattutto in Asia Centrale, l'amministrazione dello Stato e del Partito era, soprattutto nelle regioni nomadi, era sostanzialmente europea, cioè russi, ucraini, eccetera, e quindi questo doveva essere superato. Queste politiche furono messe in pratica perché i bolshevichi avevano visto il nazionalismo come una potente forza mobilitante durante il periodo della guerra civile e l'Ucraina in questo era centrale. Lenin e i bolshevichi interpretarono il nazionalismo come una fase attraverso cui le città dovevano passare ma in Ucraina questo era particolarmente importante. La rivoluzione contadina in Ucraina era avvenuta come nel resto Russia con ex soldati tornati al loro villaggio con le armi che avevano distribuito le terre sottrate ai signori e poi difeso il loro grano dalle requisizioni diserti e tentativi di costruzione statale sul territorio ucraino. Come ha spiegato tra gli altri lo storico Mark Baker però la resistenza contateva ben poco a che fare con parole d'ordine nazionaliste o comunque in molti casi non aveva a che fare con questo e si basava invece su interessi e lealtà locali. Allora i bolshevichi operarono dunque una prima interpretazione nazionale della resistenza della popolazione contadina alla conquista bolshevica. Questa interpretazione fu una delle importanti cause del consolidamento delle politiche sovietiche della gestione della diversità etnone nazionale. Questa ideologia era implicitamente anti-imperiale in quanto il nazionalismo russo era considerato il pericolo maggiore nel processo di consolidamento iniziale dello Stato comunista in quanto il nazionalismo russo imperiale avrebbe provocato la comprensibile e giusta agli occhi di Lenin reazione delle popolazioni periferiche represse durante il periodo zaristo. Allora il più pericoloso tra i potenziali nazionalismi era appunto quello ucraino perché data la posizione geopolitica della regione era quello che più facilmente avrebbe dovuto trasformarsi in un alleato di un aggressore esterno proveniente da Ovest tra le due guerre la Germania e la sostanzialità. La svolta in queste politiche delle nazionalità avvenne alla fine del 1932 e fu legata alla crisi portata dalla collettivizzazione totale messa in atto da Stalin. I contadini e i nomadi dovunque in Unione Sovietica reagirono alla violenza dello Stato fuggendo dalle campagne smettendo di lavorare e anche insorgendo. Ancora una volta l'Ucraina era centrale in questa battaglia per la sua centralità nella produzione di la sua posizione geopolitica e per il successo delle politiche di ucranizzazione degli anni venti. Stalin avanzò una seconda interpretazione nazionale della resistenza contadina alle politiche dello Stato e usò una carestia che stava ammietendo centinaia di migliaia di morti causata dalle politiche di requisiti del grano per assoggettare i contadini ingigantendola e uccidendo milioni di contadini ucraini perché ritenuti degli oggettivi nemici del governo sovietico portatori di una ideologia anti-sovietica e dunque nazionalista o comunque oggettivamente anti-sovietica di cui stavano sabotando le politiche dello Stato sovietico. secondo Stalin questi contadini erano protetti da funzionari sovietici infiltrati da spie straniere polacche eccetera quindi anche qui c'è continua questo caso quindi dobbiamo ricordare sempre che fin dall'inizio dell'Unione Sovietica c'erano due serie parallele di politica politiche di costruzione nazionale e di decolonizzazione nelle aree di colonizzazione ad esempio in Asia Centrale e politiche centrale creazione di istituzioni statali efficaci in primo luogo l'esercito funzionanti con una lingua comune che naturalmente era il russo politiche di sfruttamento e talvolta di sterminio quindi questi due questi due set di politica erano paralleli ed erano entrambi funzionali con il consumento dello Stato e potevano essere messi in pratica in modo prioritario a seconda delle congiunture politiche ed economiche quindi dopo nella seconda metà degli anni 30 e poi soprattutto con la seconda guerra mondiale ci fu una svolta che portò alla rivalutazione allo sdoganamento di del nazionalismo russo in sostanza di temi forse ricorderete il famoso Brindisi di Stalin alla vittoria del 1945 alla vittoria del popolo russo e la guerra e le deportazioni etniche che erano già iniziate nella seconda metà degli anni 30 crearono in sostanza un'implicita gerarchia etnica informale con la testa i russi a cui non avevano dei come dire delle privilegi di tipo legale definito ma avevano la possibilità di esprimere il proprio nazionalismo in modi che gli altri gli altri popoli non avevano a secondo poi altri slavi poi i non slavi e all'ultimo all'ultimo gradino i popoli puniti a cui per i quali era stata interrotta la costruzione nazionale e anche le nazionalità della diaspora appunto colpite durante la seconda guerra mondiale e anche subito immediatamente dopo quindi il nazionalismo russo divenne parte una specie di ideologia accettata secondaria all'interno dell'apparato dello Stato sovietico e soprattutto degli apparati repressivi e queste culture nazionaliste questi sentimenti nazionalisti innervarono molti esponenti della dirigenza sovietica soprattutto negli anni successivi e io credo che in questo in questo contesto diciamo culturale ultimo minuto Niccolò per dircelo sì sì in questo contesto culturale che emerge appunto la visione di Putin perché da questo contesto amministrato da questo da questo contesto che emerge Putin come come figura politica e poi nel posso dire qualcosa di più su questo grazie grazie a te Niccolò sempre molto interessante devo dire non faccio commenti per non far perdere tempo e do la parola a Simona Merlo ci parlerà più specificamente l'Ucraina sovietica e che poi sarà la prima a rispondere alle vostre domande perché come vi ho detto alle sette e mezza deve lasciare il suo ufficio il giro faremo un giro contrario diciamo prego Simona grazie grazie Andrei anche io voglio ringraziare la Sisco per questa iniziativa perché credo che incontri come questi ci aiutino a cogliere la complessità della storia anche al di là di tante letture semplificate a cui abbiamo assistito in questi giorni quindi credo che ci sia bisogno di tornare alla storia e alla complessità della storia e di una storia così complessa scusate il gioco di parole qual è quella dell'Ucraina io proverò a dire qualcosa sulla formazione dell'Ucraina sovietica anche perché la legacy sovietica è quella che come è stato scritto di recente da alcuni studiosi ucraini che hanno fatto questo collettaneo sul regionalismo loro dicono è la legacy che pesa di più sull'Ucraina contemporanea non solo perché è la più recente ma anche perché questa è l'unica eredità che appartiene a tutta l'Ucraina con differenze regionali tuttavia dettate dai diversi momenti in cui i vari territori dell'attuale Ucraina entravano a far parte della pompagine sovietica cioè in oltre parole c'è stato un progetto sovietico che con tutte le sue contraddizioni e aporie ha posto le fondamenta dello stato nazionale ucraino se non altro per il fatto se non altro ma non solo per il fatto di aver disegnato i suoi confini beh come è noto l'Ucraina è stata tra le quattro repubbliche fondatrici dell'Unione Sovietica il 30 dicembre 22 ma le sue basi sono state poste nel corso della guerra civile l'Ucraina era tra i territori usciti dall'orbita sovietica e dall'orbita russa scusate alla caduta dell'impero zarista a Kiev dopo la rivoluzione di febbraio è già stato citato prima da Alberto emerge la rada quindi questo consiglio che è questa sorta di organismo composto dall'intelligenza ucraina nazionalista moderata di orientamento socialista la quale all'indomani invece dalla rivoluzione di ottobre il 7 novembre 17 proclama la Repubblica Popolare Ucraina caccia i bolshevichi che devono lasciare Kiev e riparano a Kharkiv la città che diventerà non soltanto il bastione del bolshevismo ucraino ma anche la capitale della Repubblica Ucraina fino al 1934 qui ci sarebbe un lungo discorso da fare non è il momento sui due diversi profili di questa città perché Kiev è legata alla tradizione imperiale è la città che ha un rilievo per l'ortodossia di matrice diciamo slavo orientale è una città dal profilo plurale che però è stata centro di un importante movimento nazionale ucraino tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento è la città che come dice lo studioso Roman Sporluk rimane comunque la città primate dell'Ucraina anche nell'epoca in cui invece la capitale Kharkiv Kharkiv invece appunto ha questo profilo sebbene anche Kharkiv fosse stato un centro del nazionalismo ucraino ottocentesco viene ad assumere appunto questo profilo più bolshevico ma questo è un discorso che meriterebbe un altro approfondimento magari un'altra volta la guerra civile in Ucraina è una sorta di tutti contro tutti ed è uno dei periodi più turbolenti della storia ucraina mi soffermo solo su due momenti uno è quello a cui ha già accennato Alberto cioè la riconquista e la recomposizione dello spazio che era stato imperiale attuata da Stalin prende l'inizio proprio dall'Ucraina cioè c'è un intervento un'invasione che viene dopo un ultimatum che viene compiuta nei confronti dell'Ucraina dopo una richiesta d'aiuto da parte del regime fantoccio di Kharkiv è un'operazione che segna l'inizio della guerra Simona per qualche motivo non ti sentiamo da parte del centro bolshevico contrario a questa operazione erano stati mi dice che la connessione internet non è stabile spero che adesso va bene prima c'è stato un momento adesso va bene purtroppo questa è l'università dicevo contrario a questa operazione erano stati proprio i bolshevichi del Donbass che a loro volta avevano formato la repubblica di Danesca e Krivoy Rogue semi indipendente dal centro di Petrogrado e vengono invece il Donbass viene inserito nella costruzione di Lenin viene inserito nell'Ucraina ed è qui lo cito perché se chi di voi ha sentito il discorso che ha fatto Putin quando ha riconosciuto all'inizio di questa operazione le repubbliche del Donbass si è riferito a questo come un regalo fatto da Lenin all'Ucraina secondo momento diciamo che appunto in questa guerra di tutti contro tutti ci sono vari cambi di potere alla fine sono i bolshevichi a prevalere ma prima di prevalere definitivamente c'è un momento che sottolineo per l'importanza simbolica che ha che è l'unione tra la Repubblica Popolare Ucraina Orientale e la Repubblica Ucraina Occidentale cioè quella parte della Galizia che per un brevissimo momento Galizia ex-Asburgica prima di essere conquistata dalla Polonia riesce a proclamare l'indipendenza e a compiere questa unificazione di breve durata ma appunto di grande valenza simbolica con la parte diciamo orientale prima poi di nuovo che la storia torni a divergere per unificarsi in tutt'altra situazione sotto Stalin dopo la seconda guerra mondiale non parlo dell'etnofederalismo della kerenisazia ringrazio Nicolò che l'ha fatto per me e quindi passo invece a dire come è stata organizzata l'architettura territoriale dell'Ucraina sovietica innanzitutto attraverso degli aggiustamenti dei confini nel 1924 è un periodo in cui si c'è tutta un'ottica di demarcazione in senso etnico dei confini delle repubbliche e qua c'è il bellissimo volume di Franzi Niersch Empire of Nations che spiega come appunto anche l'utilizzo dell'etnografia sia stato fondamentale in questo il 1924 quindi l'Ucraina deve cedere alcuni territori della regione del Donne ma è anche l'anno di creazione della Repubblica Autonoma Moldava all'interno della Repubblica Ucraina all'epoca costituita essenzialmente dalla Transnistria anche qui faccio un riferimento all'oggi potete trovare online il filmato di Lukashenko di oggi che mostra come ci sia a suo dire un progetto per riconnettere per connettere la Transnistria che adesso è fuori dal controllo come sapete del governo di Kishinau di connetterla a in questo nuova raccolta di terre che viene compiuta in questi giorni dai russi e dai bilorussi diciamo che in questo discorso però il momento veramente di svolta visto che si parlava di individuare dei momenti di svolta nella costruzione dell'Ucraina sovietica è la seconda guerra mondiale con l'annessione della Galizia orientale della volina occidentale strappate alla Polonia della bucovina settentrionale sottratta alla Romania e della Transkarpazia scusate ceduta dalla Ciecoslovacchia le prime tre in virtù del trattato Molotov von Ribbentrop la Transkarpazia per un accordo siglato tra Stalin e il leader cieco Edward Bench entrano a far parte dell'Ucraina territori con vicende storiche completamente differenti da quelle del nucleo storico dell'Ucraina sovietica abitate da significative minoranze nazionali come nel caso della bucovina della Transkarpazia oppure come nel caso della Galizia orientale ex-arsburgica ed ex-polacca greco-cattolica portatrice di una forte identità nazionale e che si considera il vero motore del nazionalismo ucraino il già citato Sporluk dice a mio avviso con grande profondità come questa annessione può essere considerata una delle decisioni più fatali di Stalin nel periodo tra il 39 e il 45 perché proprio da qui sarebbe mosso si sarebbe mosso quel movimento di liberazione nazionale dell'Ucraina da Mosca che si sarebbe poi affermato negli anni della perestroica e che sarebbe avrebbe anche assunto il valore di paradigma per tutta l'Ucraina che tuttavia non era ovviamente una grande Galizia dopo queste annessioni la posizione dell'Ucraina come bastione verso l'Europa assume una nuova importanza dal punto di vista geopolitico perché proietta i confini dell'URSS verso quell'Occidente come già stato detto peraltro da cui sarebbero potute provenire le maggiore minacce per la stabilità sovietica e proprio nel momento in cui si profilavano all'orizzonte i nuovi equilibri della guerra fredda e veniva rafforzata la natura di frontiera dell'Ucraina che come sapete questo è anche il significato del suo toponio infine a completamento della costruzione dell'Ucraina sovietica c'è la famosa cessione della Crimea da parte di Khrushchev risaputa da tutti quindi in conclusione tutte queste le aporie di questo processo cominciano a emergere nel periodo della perestroica da una parte si afferma un movimento nazionale capeggiato dal RUK che arriva gradualmente a prefigurare una Ucraina indipendente da Mosca dall'altra parte emergono movimenti come in Crimea che costituiscono segnali di processi centrifugi talvolta in forma di autonomia talvolta di una vera e propria indipendenza e diciamo che all'indomani nel 1991 queste forze creano problemi al governo centrale di Kiev dal punto di vista storiografico e concludo diciamo che all'indomani del trollo dell'URSS è stato difficile applicare proprio per questa pluralità di storie che confluiscono nello Stato ucraino è stato difficile applicare all'Ucraina il paradigma di un normale Stato nazionale così come è stato difficile parlare di una identità nazionale unica e coesa si sono cercate chiave interpretative negli anni 90 per esempio ha avuto molto successo questa lettura dell'Ucraina come le due Ucraine che poi proposta da politologo di Kiev Moikola che poi lui stesso in questi ultimi anni ha rivisto questa ha rivisto questa questa chiave interpretativa in anni più recenti alcuni studiosi forse con qualche forzatura hanno parlato dell'Ucraina come di uno Stato di regioni forse una forzatura ma comunque rende conto anche di di una pluralità ecco di esperienze che confluiscono nell'Ucraina che in qualche modo hanno avuto un peso nel processo di nation building si possono dire tante cose dell'Ucraina post 91 spero che ci sia occasione di farlo in un'altra occasione credo che però nessuna riflessione possa prescindere dal tenere in considerazione questa complessità che è complessità culturale linguistica religiosa di una vicenda che è frutto di percorsi storici divergenti di stratificazioni di spostamenti di confine e di un processo appunto molto complesso grazie grazie a te Simona è molto interessante io ringrazio tutti e quattro i relatori abbiamo visto l'Ucraina non è un caso direi non per fare un solo commento che quella come dire tendenza alla democrazia all'affermazione alla pluralità di cui parlava Simona si ritrova pure nella storia dell'Ucraina molto fortemente come se fosse come dire una spinta per questo riconoscimento di una pluralità di soggetti di coscienza io però mi taccio subito come ho detto adesso io darei la parola per una ventina di minuti al massimo in modo che poi c'è il tempo per far rispondere ai nostri relatori alle domande dirò ripeto ve l'ho detto che siamo diventati tantissimi siamo più di quattrocento via via si sono accumulati e ne siamo molto felici le domande devono essere domande vere massimo due minuti per dare spazio a tutti siamo quattrocento un minuto è meglio si possono fare alzando la mano che è meglio secondo me perché la vediamo di più o se no in chat sperando che riusciamo a seguire tutto perché appunto siete quattrocento naturalmente non tutti io credo voler farne una domanda ci sarà il tempo di rispondere io direi quindi per ripetere domande dicendo a chi la rivolgete mi raccomando brevemente il vostro nome se volete dirlo perché spesso c'è solo diciamo il nome anche il nome e cognome può aiutare la persona a cui la rivolgete questa domanda massimo di un minuto in modo che poi di due minuti scusate ma un minuto sarebbe consigliabile io adesso sono le sette precise alle sette e venti io chiuderò le domande e darò la parola ai nostri relatori io vedo la prima è di una mano alzata di Lucrezia quindi io darei la domanda la parola a Lucrezia con le regole che vi ho detto e pregherei Marco Aterrano di farle rispettare grazie prego dovrebbe poter sì dovrebbe poter attivare il microfono credo sia anzi già attivo prego Lucrezia no allora lasciamo perdere Lucrezia forse ha fatto un errore facciamo parlare Domenico Mazza grazie con le stesse modalità prego sì buonasera mi sentite sì sì certo buonasera sono Domenico Mazza e sono dottorando di ricerca al dipartimento di scienze politiche di Messina la mia domanda è questa dice anche a chi la fa per noi è un grande aiuto a tutti i relatori a tutti i relatori a tutti a chi ha voglia di rispondere ecco si è parlato molto di impero zarista però ecco nella storia dell'Ucraina è forte anche la storia diciamo dico dell'impero tedesco perché è stato forse appena accennato nel 1918 i tedeschi dopo Brest-Litovsky favorirono la nascita di stati fantocci nell'Europa orientale e favorirono anche la creazione di un'Ucraina indipendente quindi mi riferisco sia alla prima Repubblica Socialista sia all'Etmanato del che era più diciamo si concentrava magari più nell'Ucraina orientale e poi anche vorrei ricordare come anche se forse a volte è sopravvalutata l'influenza che ha avuto l'invasione nazista in Ucraina che appunto è stata ha trovato anche un consenso popolare forte però che Hitler magari non ha non ha non ha non ha approfittato fino in fondo ecco volevo chiedere ai relatori quanto è forte il legame tra se c'è se si può rinvenire tutt'oggi un legame forte o comunque dei punti di contatto culturali sociali diciamo di ogni tipo tra il popolo ucraino l'Ucraina e la Germania secondo voi è un caso che Scholz abbia venduto quelle armi va bene la ringrazio la domanda scusate se mi sono dilungato no no la domanda è molto chiara c'è rapporti tra Ucraina e Germania prego Francesco uno direbbe Bordiga non si legge tutto ma non credo sia Bordignon prego mi sentite? si prego buonasera mi chiamo Francesco Bordignon studio storia Laca Foscari in triennale allora questa domanda è rivolta a tutti quanti voi relatori possiamo considerare la Russia di oggi come il secondo impero zarista che vuole riappropriarsi dei suoi vecchi territori a partire dall'Ucraina e poi anche quegli altri e così via è molto veloce la ringrazio molto abbiamo poi Donatella Schmidt prego io prego i relatori di aspuntarsi le domande naturalmente prego Donatella Schmidt pronto? si mi sentite? si perfettamente non riesco ad attivare il video allora ringrazio anch'io e anch'io ho una domanda veloce anche se denza nel panorama che i nostri quattro relatori ci hanno ci hanno fornito e nella complessità del quadro frutto di di processi storici ma anche linguistici eccetera variegati non compare la variabile economica e io invece chiedo quanto abbia pesato nelle scelte dei confini o e delle diciamo delle decisioni prese anche questa variabile di tipo economico grazie grazie mille grazie mille le domande sono tutte molto chiare io ringrazio molto che l'ha fatta e darei senz'altro la parola a Brunello Mantelli che colgo l'occasione di salutare mi fa piacere perdonate questa cosa personale prego Brunello eccomi qua eccomi qua grazie grazie Andrea per il saluto c'è in cambio la mia è una curiosità non riesco ad attivare la cosa no prego togliere il microfono alla precedente Brunello puoi andare prego la mia è una curiosità molto puntuale che rivolgo a Simone bellezza che saluto tra l'altro e era nella memoria pubblica attuale dell'Ucraina di oggi che ruolo occupa la Bacnofina il movimento Nestormach no nessuno qualcuno come entra nella rielaborazione del passato ucraino basta così grazie mille Brunello adesso Marco Di Giovanni eccomi buongiorno sono Marco Di Giovanni Università di Torino anche io sono puntuale ma in qualche modo mi sovrappongo proprio a Brunello perché la domanda è su Simone bellezza il tema è questo quanto appunto contano allora visto il tipo di narrazione che Putin propone nello scenario identitario della della Ucraina di oggi questi riferimenti alla resistenza antisovietica questi riferimenti a una transizione tra identità ucraina e come dire fiancheggiamento del nazismo rispetto a quel quadro appunto quell'afflato europeo e democratico che domina lo scenario soprattutto lo scenario della comunicazione odierna ecco va bene molto chiaro grazie Ignazio Grillo prego Andrea poi abbiamo un paio di domande in chat va bene finiamo mi sentite prego Ignazio Grillo prego infatti chi è la domanda a chi la rivolge se la rivolge a qualcuno e poi la domanda allora un attimo mi sentite intanto sì sì assolutamente prego allora io sono Ignazio Grillo e sono uno studente della magistrale di storia all'università di Palermo la mia domanda sostanzialmente è un po' la faccio ai relatori in generale per chi si sentisse di rispondere nello specifico insomma questo lo lo valuterete voi e allora la mia domanda è un po' diciamo sposta un po' l'attenzione su un punto si è tanto parlato di Ucraina di Russia e dei rapporti che intercorrono tra le due realtà ma io vorrei chiedere ma credo ci siano e se sì secondo voi quali sono nello specifico anche le responsabilità di quanto sta succedendo dell'Occidente delle democrazie liberali sostanzialmente occidentali grazie sì devo dire scusi cercherò magari io oppure se qualcuno però questa domanda che diciamo noi abbiamo cercato ma visto di fare parte ma anche più intervento un intervento storico non diciamo un dibattito di responsabilità comunque io se qualche relatore sicuramente vuole rispondere si può rispondere anche io potrei dire le cose dopo prego Federico Giuliani Buonasera Federico Federico Giuliani Università degli Studi di Torino io volevo fare una domanda in particolare a Simona Merlo però mi pare una domanda generale sulla dimensione religiosa della questione perché nel 2018 Costantinopoli ha concesso il tomos dell'autocefalia alla chiesa dell'Ucraina le tre chiese ortodosse si sono sostanzialmente unificate e c'è in questo momento la guerra avviene in una fase di scisma tra le chiese ortodosse questa è una cosa molto sottolineata dai giornali greci per esempio Tovima tutti i giorni forse la domanda che la dimensione di nation building la facevo però soprattutto sull'esempio cattolico perché poi prima la chiesa unita d'Ucraina era quella all'arcivescovado maggiore di Leopoli che però dieci anni fa ha spostato la propria sede da Leopoli a Kiev con una mossa che ha molto stupito ha stupito gli ucraini ha stupito insomma anche Roma in una certa dimensione e poi non credo ci sia il tempo però Pincele avrei voluto chiedere sulla questione invece delle minoranze etniche quanto oltre all'Asia centrale poteva servire come esempio quello della russificazione della Carelia che ha una serie di questioni interessanti specialmente per il ruolo di Andropov che era stato segretario del partito comunista finlandese di Carelia scusate la ringrazio molto io adesso però Marco non so se mi senti io le due domande sulla chat non le vedo le vuoi leggere te perché per qualche motivo se apro la chat non le vedo poi diamo la parola invece Alessandro Lutri che è quello alzato se ci sono altre domande c'è ancora spazio ho ancora cinque sei minuti tranquillamente una domanda di Paolo Capuzzo per Simone Bellezza in questo tipo di interventi militari la cui finalità è di sovvertire il potere politico in un paese sovrano occorre avere dei sostenitori interni che si possano sostituire al governo legittimo ci sono dei gruppi interni all'Ucraina sui quali Putin possa contare per stabilizzare il suo controllo politico dopo la fine del conflitto questo era Capuzzo per Simone poi abbiamo non riesco a leggere il nome purtroppo ma c'è questa domanda salve in questo contesto storico si può chiarire meglio il concetto di denazificazione espresso di recente da Putin come condizione posta durante le stesse negoziazioni forse la dottoressa potrebbe rispondere a questa domanda grazie saluti da Londra Carla Paulis ne leggo un'ultima sempre per Simone bellezza volevo gentilmente chiedere un commento sul ruolo e peso dei movimenti idee di destra nella politica ucraina e come si inseriscono nel contesto attuale di chi è questa purtroppo non so perché non me lo faccio leggere ma lo recupero a breve va bene adesso c'è di uno Stefano Stefano Manzo Stefano Manzo Stefano Manzo va bene la ringrazio ringraziamo anche lui adesso darei la parola Alessandro Lutri io poi direi essendo le sette undici essendoci già quasi venti domande quindici venti domande poi diamo tempo ai relatori casomai poi pensiamo sentiamo come andare avanti prego Alessandro Lutri Buonasera io non sono uno storico bensì sono un antropologo e neanche specialista ecco del mondo slavo però volevo fare appunto ecco una domanda a Simona Merlo che come appunto ecco ho avuto modo ecco di constatare specialista diciamo così ecco in campo e collegioso per quanto riguarda le relazioni fra l'Ucraina e la Russia la chiesa diciamo così a cortodossa e mi chiedevo diciamo così ecco ho appena appunto ecco saputo che di fatto eh anche eh la chiesa appunto a cortodossa Ucraina eh ha acquistato acquisito diciamo così ecco una sua grande capito e quale avanza e sappiamo ovviamente quanto anche nell'ambito eh della religione diciamo così a cortodossa la centralità della città sacra appunto ecco di Kiev come mai diciamo così ecco la chiesa ortodossa diciamo così ecco Ucraina eh non sta diciamo così ecco se non sbaglio eh non sta intervenendo assolutissimamente nei confronti del conflitto eh con eh la Russia cosa c'è dietro cioè se lei può dirci che cosa ci sarebbe questo silenzio eh in termini appunto ecco di relazioni fra la chiesa autocefala Ucraina e la chiesa autocefala diciamo così ecco russa o qualcos'altro grazie grazie a lei molto gentile Paolo Pezzino saluto anche Paolo un altro vecchio amico cambi saluti una domanda rapidissima vorrei qualche informazione più precisa sul conflitto nel Donbass perché si legge sempre che è un conflitto che ha causato diciotto mila vittime onestamente non riesco a capire se le vittime chi sono queste vittime popolazioni civili certo residenti lì ma chi sono i perpetratori delle milizie filorrusse milizie filo-ucraine esercito regolare ucraino e su questo gradirei qualche informazione più precisa da chi me la può dare grazie grazie Paolo molto gentile eh se non ci sono altre domande eh chiuderei ce ne è l'ultimo in chat chiedevano per Alberto Masoero eh il titolo del libro che andrebbe tradotto in italiano il titolo e l'autore questo va bene questa è una domanda facile Alberto risponderà facilmente eh un minuto per raccogliere qualche altra eventuale domanda perché poi darò la parola ai relatori quindi trenta secondi li perdiamo nell'attesa per dare la possibilità a qualcun altro di alzare la mano in modo che rendi mi pare che non c'è nessuno allora non ruberei eh tempo ai relatori per rispondere e come ho detto eh visto che Simona deve andare via eh ci dispiace molto però diciamo se Simona in sei minuti circa riesce a rispondere alle domande che gli sono state poste eh ne siamo mulati l'iPad di Giorgio l'ultima domanda ammessa iPad di Giorgio non sappiamo chi sia prego eh Giorgio Pogliano Università di Torino eh volevo volevo chiedere eh che cosa c'è di vero nelle accuse di filo nazismo e come deve essere interpretato il franco bollo dedicato a bandera del 2009 sempre collegato alle accuse di filo nazismo grazie prego allora questa era l'ultima domanda eh io direi che risponde per prima Simona ci andiamo a ritrosso farei parlare Simona Nicolò eh la sua era bellezza e poi magari mi riservo io cinque minuti se non se ne sono andati tutti ma se se ne sono andati tutti andiamo via tutti prego allora in maniera molto semplice allora c'è una dimensione religiosa senz'altro della questione la prima cosa da dire è che in questa guerra sono ortodossi che uscirono altri ortodossi quindi quando si dice che è una guerra fratricida eh lo è nel vero senso del termine questa è la prima cosa la seconda cosa riguardante l'autocefalia mh qui è un discorso più complicato perché eh la questione eh religiosa è una questione che si pone già dall'inizio degli anni novanta quando comincia ad esserci un movimento eh di tipo nazionale anche all'interno della stessa chiesa mh abbastanza appoggiato dall'allora presidente della repubblica di Anid Kravchuk quindi il primo presidente dell'Ucraina indipendente la eh l'elemento religioso eh è un elemento della costruzione del del nation building eh del nation building in Ucraina questo lo è già dal periodo di Kravchuk e poi via via dico solo che nell'ultima campagna ehm delle elezioni e presidenziali il presidente Poroshenko con il suo motto era Mova Serkva Arma Arnia quindi lingua chiesa e eh esercito quindi eh come uno uno degli elementi con l'idea appunto che in uno stato eh ormai diventato indipendente anche la chiesa ortodossa dovesse essere indipendente da Mosca ci si appoggia appunto a questa prima diciamo scheggia della chiesa che si stacca già all'inizio degli anni novanta e con varie traversie che sarebbe lungo poi stare a ehm a descrivere si approda all'autocefalia del eh duemiladiciotto in che cosa si eh contraddistingue l'autocefalia del duemiladiciotto del fatto che per la prima volta le richieste degli ucraini o meglio di questa parte della chiesa autocefale ucraina si vengono accolte dal patriarca di Costantinopoli il quale riconosce appunto con il tomos di autocefalia riconosce l'autocefalia della chiesa mh questo ovviamente in non viene accettato da Mosca il patriarcato di Mosca di fatto siamo ci troviamo in una situazione di scisma perché non solo perché non è stato riconosciuto questo atto da Mosca ma anche perché da allora tutte le altre chiese ortodossi in qualche modo chi più esplicitamente chi meno si sono schierate o con Mosca o con Costantinopoli quindi non è soltanto uno scisma che riguarda la chiesa ucraina ma uno scisma che riguarda l'intero mondo ortodosso volevo dire ancora una cosa su questo ma non mi viene in mente passo invece diverso ma per certi versi collegato a questo è il discorso del trasferimento della cattedra della cattedra greco-cattolica da Leopoli a Kiev cioè il problema di avere una chiesa nazionale all'indomani dell'Ucraina indipendente è un problema che un po' interpella tutte le chiese e anche i greco-cattolici sebbene siano concentrati in Ucraina occidentale in qualche modo si pongono il problema di uscire da quello che viene ormai visto come una sorta di ghetto galiziano e di giocare un ruolo invece a livello nazionale è il motivo per cui appunto la cattedra viene trasferita da Kiev da Leopoli a Kiev e la chiesa greco-cattolica tenta appunto questa come posso dire questa sua maggiore insomma diffusione ma anche maggiore influenza non soltanto in quella che era la sua pulla storica ma nel nuovo nel nuovo stato ucraino ecco la cosa minutemente quello che volevo dire è che dopo la la formazione della chiesa auto-chef purtroppo è saltata la chiesa ortodossa rimane comunque legata a Mosca anche se vedo di nuovo che la connessione è instabile ma no no ti sentiamo adesso spero che sia giusti anche se secondo me questa guerra ma questa è una mia opinione creerà cioè sarà anche in questo senso un punto di svolta perché io ho letto le ho letto le dichiarazioni che hanno fatto i vescovi ucraini ancora legati al patriarcato di Mosca sono state delle reazioni durissime in cui si è fatto il nome e cognome non solo della Russia ma diciamo delle responsabilità russe ma anche di Putin quindi diciamo sono io credo che l'enormità di quanto di quanto è successo ha fatto venire o meno ogni sorta di diplomazia o di filtro e quindi credo che questo abbia una avrà senz'altro non so in quale direzione però segnerà un cambiamento anche all'interno del mondo ortodosso del mondo ortodosso ucraino quindi la chiesa ucraina interviene interviene sia sono intervenute entrambe le chiese quindi non soltanto la chiesa legata a Costantinopoli ma anche quella legata a Mosca è intervenuta in maniera direi molto forte e chiara grazie mille Simona darei quindi la parola a Niccolò prego Niccolò io sarò molto breve perché penso che sia giusto che gli specialisti di Ucraina parlino di più magari la domanda sulla responsabilità dell'Occidente ma rispondo in modo più ampio diciamo secondo me la risposta breve è no non si può creare questa aggressione all'Ucraina con responsabilità occidentali se noi partiamo dal fatto che è abbastanza insomma è assodata la volontà da parte del gruppo dirigente putiniano di ricostruire un'egemonia sul sullo spazio ex sovietico in particolare la Belorussia e l'Ucraina quindi questo quindi questo è indipendente è indipendente da cosa fa cosa fa l'Occidente purtroppo ho cinque minuti quindi non c'è non c'è spazio per elaborare però secondo me la domanda cruciale è una domanda che ci siamo fatti tante volte anche con Alberto Masoero discutendo perché questa classe dirigente in Russia non è emersa una classe dirigente forte che si rassegni a voler essere a voler essere la classe dirigente di uno stato come gli altri con confini certi senza volontà egemoniche impegnati a crescere economicamente a aumentare la rinca la retorica del Cremlino si focalizza sulla minaccia quindi quando il gruppo dirigente putiniano dice che la Russia è minacciata dalla NATO e si è creata instabilità Lavrov da anni appunto batte sull'instabilità creata dall'Occidente in realtà è una si mette cioè parte parte della Russia ma parte di se stessa cioè chi comanda in Russia loro si sentono minacciati e instabili hanno bisogno di questa proiezione all'estero perché questa la classe dirigente putiniana è sostanzialmente illegittima è diventata ha preso il potere in modo tra il 2000 con la nominato Putin è stato nominato da Yeltsin e poi con la guerra in Cecenio e come dice Simone prima credo che sia un punto molto importante c'è una transizione nella percezione del gruppo dirigente putiniano perché Yeltsin e il suo gruppo nonostante ci fosse stato bombare nel Parlamento del 93 la guerra in Cecenio del 94 del 96 erano appoggiati e legittimati dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea che avevano paura di qualcosa di peggio questo cambia tra il 98 e il 99 ma Putin spera in un riavvicinamento quando sale al potere reso più facile dall'11 settembre la collaborazione nella guerra in Afghanistan che porti all'accettazione da parte occidentale della diversità russa e del suo potere personale che è descritto prima ovvero della differenza di fatto anche se non formale del suo regime dalle altre degli altri stati ma che sia legittimato invece con le rivoluzioni cosiddette il 2003 georgiano e soprattutto dalla rivoluzione arancione del 2004 Putin vede un piano per delegittimarlo indirlo sostituendo regimi collaborativi nell'ex URSS ma queste sono rivoluzioni di popolo non sono ospirazioni della CIA io credo che ci sia anche un motivo generazionale e si ricollega con quello che dicevo prima cioè i cosiddetti silabichi le persone che vengono dagli apparati della forza dell'esercito dei servizi segreti che non sono tutto il gruppo di gente russo ma che tu viscono una buona parte soprattutto la cerchia intorno a Putin sono la più giovane generazione imperiale russa che ha perso l'impero sovietico quelli nati negli anni 50 cioè sono le seconde e le terze linee dei servizi segreti e dei vari corpi delle forze armate che avevano sui 35-40 anni quando l'URSS è caduta sono imperiali nel senso che sono cresciuti e sono formati in URSS all'apoggiere della sua potenza a differenza delle generazioni più giovani quelli che sono nati negli anni 50 lavoravano nel KGB e nelle forze armate al momento del crollo erano già socializzati dalle istituzioni repressive sovietiche quindi sono non mi pare che ci sia nella storia moderna il caso di uno stato autoritario una grande potenza militare che sia stato sconfitto ma in cui la sua casta militare non sia stata estirpata che abbia compiuto la transizione verso quel modello di classe dirigente che invece punta al sviluppo economico eccetera la storia della comunità del ventesimo secolo è piena di esempi di questo tipo grazie grazie a te Niccolò darei senz'altro la parola dunque dove siamo andati Alberto Massuero sei ancora con noi Alberto eccomi eccomi si sente? si ok domanda sul testo di Zorin l'ho messo in chat se a qualcuno interessa non so se si deve riprenderei tra le tantissime domande solo quella sul secondo impero zarista che mi permette anche di chiarire meglio un po' il senso di come facevo no i regimi autoritari russi sono come le famiglie infelici di Tal Stoi ciascuno è autoritario a modo suo e dobbiamo in termini di comprensione storica cercare di capirli nelle loro proprie coordinate mentali anche e non solo mentali ovviamente in questo senso non vedo il regime putiniano come un nuovo impero zarista ma come un progetto politico che emerge dalla crisi post sovietica con le cose che ha detto perfettamente Nicolò e non ripeto che deve affrontare tre problemi che sono in sé dei veri problemi oggettivi a cui si possono dare diverse soluzioni primo costruire lo Stato non essere stati in grado di costruire lo Stato a mio parere è la vera debolezza dei democratici russi degli anni 90 secondo costruire delle relazioni di buon vicinato e di collaborazione con gli ex stati post sovietici che è un'esigenza anche al di là delle narrative nazionaliste è un'esigenza oggettiva bisogna collaborare in questo terzo problema oggettivo trovare una collocazione nel sistema internazionale questi sono problemi oggettivi le risposte sono invece soggettive a ciascuno di questi tre e non le ripeto e le ho già dette prima ma in questo senso c'è una soggettività del regime che a mio parere nelle interpretazioni è stato spesso sottovalutato dobbiamo studiare questo regime dall'interno ecco grazie grazie Alberto darei la parola a Simone che può prendersi anche sette otto minuti cioè più degli altri e poi se ci sarà ancora qualcuno oppure io proverò a rispondere a alcune domande a cui non è stato risposto prego Simone grazie allora mi sembra che ci siano state più domande in realtà che chiedevano di chiarire il rapporto che l'Ucraina ha con la memoria del nazionalismo integralista estremo della seconda guerra mondiale in particolar modo si è parlato appunto di bandera e della figura di bandera allora bisogna cercare di capire che ovviamente anche nell'Ucraina di adesso ci sono dei movimenti di estrema destra nazionalista xenofoba che si rifanno direttamente anche a quello che è successo durante la seconda guerra mondiale e la relativa fascistizzazione del nazionalismo ucraino negli anni trenta devo dire però una cosa che forse suonerà strana bandera nell'Ucraina di oggi è un simbolo di democrazia nel senso che quello che è successo durante il periodo sovietico è stato che di fatto anche proprio a livello di massa i cittadini sovietici non conoscevano bandera per nulla se non per il fatto che il potere sovietico per gli anni dalla fine della seconda guerra mondiale fino al 1991 non aveva detto loro che quello era il male che quello era il nemico da combattere allora quello che è successo è che bandera si è trasformato anche a seguito dell'omicidio che è stato commesso all'estero in un simbolo del quale gli ucraini stesso che vivevano in Unione Sovietica non sapevano nulla quando io ho incontrato i dissidenti degli anni cinquanta e sessanta e gli ho chiesto che cosa sapevano di bandera loro mi dicevano noi non sapevamo nulla per noi era soltanto un nome non sapevamo nulla della sua biografia di quello che aveva fatto quindi per loro era tutto e quello che è successo a livello direi della cultura popolare se volete è stato il fatto che bandera si è trasformato da un personaggio che oggettivamente è come dire fa una politica antidemocratica terroristica violenta in un simbolo e così è stato come dire utilizzato da molti nella rivoluzione dell'Euromaidan o della rivoluzione della dignità come un simbolo di democrazia badate bene accanto a questi ci sono però ovviamente i discendenti dei movimenti di estrema destra che invece sanno benissimo chi era bandera questi lo sanno molto bene e questi sono infatti non a caso forze di estrema destra che sono antidemocratiche sono violente ci sono anche queste quello che come dire preme dire è che questi partiti di estrema destra il pravi sector di cui probabilmente avete sentito parlare durante il 2013 14 tutti assieme sono una miriade di partiti sono molti si intersecano in genere le elezioni prendono non più tutti assieme del 2% quindi sono un fenomeno molto molto come dire particolare e di nicchia un'altra responsabilità ancora è però invece quella di alcuni storici non so se chiamarli così storici pubblici ucraini che hanno elaborato quelle famose leggi sulla memoria storica in cui per l'appunto hanno impedito per legge di parlare male di bandera del movimento per la liberazione nazionale durante la seconda guerra mondiale e invece di poter parlare bene della storia sovietica eccetera e in questo caso come dire preferisco non fare il nome in questo momento per non attribuire delle colpe però chiaramente c'è una classe come dire di storici prestati alla politica che secondo me è disonesta e che idealizza queste figure ben sapendo che queste sono figure come dire che avevano in realtà un passato come dire tutt'altro che condivisibile in una in una democrazia moderna spero di essere stato chiaro per quanto riguarda invece il Donbass che mi pare che sia una cosa importante e qua badate bene così rispondo anche alla domanda sull'economia il conflitto del Donbass se uno guarda bene ai rapporti che ci sono nell'Ucraina post-sovietica si crea molto di più non tanto per come ho visto anche da una domanda che è stata posta soltanto a me nella chat e quindi sul dissidio linguistico che c'è in Ucraina in Ucraina sì è vero ci sono russofoni e ucrainofoni ma lo dico tutte le volte che parlo di questa cosa essendo che gli ucraini fin dalla nascita sono esposti a entrambe le lingue le capiscono entrambe non hanno problemi in genere a passare dall'una e dall'altra ed è normalissimo sentire in Ucraina almeno fino ad oggi delle discussioni in cui due interlocutori parlano fra di loro in una lingua diversa è la normalità quindi è una cosa ovviamente per gli stranieri è difficile dover sapere due lingue differenti per ascoltarli ma questo succede il problema del Donbass si apre in realtà su il dissidio nel 2014 viene avviene proprio su interessi economici e sul fatto che la presidenza Yanukovic aveva portato al centro dell'Ucraina gli interessi di quelle due regioni Donetsk e Lugansk principalmente anche con una rete di clientele e di favori economici che venivano fatti a quelle regioni rispetto ad altre regioni che erano state inizialmente più come dire più vicine al potere di Kiev quindi c'è un dissidio economico che nasce nel 2014 che viene anche raccontato come un dissidio linguistico ma che come dire secondo me è privo di significato se uno va a Kiev le persone a Kiev e gli abitanti nella grande maggioranza parlano russo non parlano ucraino quindi è stupido dire che ci sia una persecuzione dei russofoni in Ucraina semplicemente non è non è vero il conflitto che si apre così con diciamo nel 2014 che poi diventa sempre più un conflitto militare anche per l'intervento della Russia è un conflitto che fa tante vittime adesso io non sono sicuro sui numeri il professor Pezzino ha citato delle statistiche devo ammettere che non non le ho controllate si parla chiaramente di migliaia di persone sono persone che vengono uccise beh innanzitutto da otto anni da una parte dall'altra dal fronte tanto dagli ucraini quando si spara si spara a tutti si è sparato a tutti tanto dalla parte ucraina quanto dalla parte filorussa o russa credo però che la domanda riguardasse anche la questione dei battaglioni di volontari che sono stati utilizzati e che talvolta per esempio nel caso del battaglione Azov hanno anche dei rimandi chiari di nuovo all'estremismo di destra nazionalista eccetera eccetera la decisione che è stata presa dal governo ucraino rispetto a questi battaglioni alcuni sono stati sciolti quelli più forti quelli che non si potevano sciogliere per fortuna non sono diventati dei battaglioni personali di alcuni oligarchi che inizialmente li finanziavano questo è stato perché forse da una parte gli oligarchi non hanno voluto diventare dei signori della guerra perché pensavano che facevano più soldi in pace dall'altra perché il governo ha deciso come nel caso del battaglione Azov di istituzionalizzarli di come dire gradualmente farli entrare sotto il controllo statale il battaglione Azov fa parte è un battaglione all'interno della guardia nazionale che è sottoposto al controllo del ministero si è cambiato il comandante si è anacquata un po' l'ideologia ovviamente quello è ancora un battaglione di estrema destra nazionalista dove c'è anche una retorica xenofoba ma si è come dire ha utilizzato una strategia dell'inclusione per evitare per il fatto che queste formazioni militari potessero come dire diventare formazioni di lotta politica vedo Andrea che è un po' come dire si agita non so se ho parlato già troppo no 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 non mi agitavo perché mi stavo sistemando meglio sulla sedia però sei fin come vuoi e quindi no forse un'ultima cosa c'era stata la prima domanda che era una domanda sulla Germania i rapporti con la Germania a parte che devo dire tradizionalmente nella storia ucraina quando si guarda occidente si pensa alla Polonia ecco che è importante che è l'afflusso all'arrivo dei cattolici cioè è più quella più che non alla Germania certo la Germania è anche più recentemente nella storia più recente è diventato un un referente però di nuovo se penso alla penetrazione dei grandi gruppi economici in Ucraina soprattutto nell'industria alimentare in altre cose mi sembra che siano sono più più gruppi francesi sono gruppi internazionali certo c'è una penetrazione economica tedesca nell'Ucraina ma non è non è così come dire adesso non è così dirimente mi pare e sì la Germania è stata forse un vero e proprio come dire modello da seguire soltanto per un momento molto molto breve che è quello appunto del nazionalismo di estrema destra quando Bandera esprime forse la parte più filo nazista del nazionalismo ucraino ma altrimenti non lo so non vedo tanto nella Germania un come dire anche insomma le cose che si dicono sempre dopo la prima guerra mondiale gli ucraini pensavano che il governo tedesco fosse giù sì però durante la seconda guerra mondiale i nazisti ci si mette molto poco a rendersi conto che il governo nazista non è un governo filo ucraino che porti quindi non lo so non mi sembra un po' meno e Brunello Mantelli mi dice Makno è vero anche Makno molto questo è brevissimo Makno non gioca un ruolo nella memoria pubblica se non di come dire di piccoli gruppi di estrema sinistra anarchica che ci sono ancora nell'Ucraina di oggi molto intellettuali mi verrebbe da dire ma dal punto di vista della del discorso più più popolare non è non è un personaggio che venga ricordato che venga celebrato che venga in qualche modo cioè soltanto soltanto è abbastanza di di nicchia forse forse è finito non lo so grazie mille io ricordo a tutti così faccio un po' di reclamo a Nicolò e no scusi a Simone e anche a me che ti ho fatto da supervisor se mi ricordo la tesi di dottorato di Simone era sulla Ucraina sotto l'occupazione tedesca nella seconda guerra mondiale anche Alberto avevo due supervisor Alberto e Andrea assieme la mia prima tesi si è su collaborazione tra ucraini quindi le sa quindi le sa come si dice no io mi prendo io avrei voluto fare un intervento anch'io poi ho preferito lasciare fare un dibattito questa cosa per rispondere a alcune domande quelle meno risposte la prima è solo un'osservazione e questa di Alberto a cui mi riattacco mi riattacco veramente andrebbe studiata l'evoluzione del pensiero putiniano perché c'è e non è di una persona di un gruppo di persone ed è molto interessante ci sono stati tutti i documenti avevamo i documenti sotto occhio diciamo così che molti non se ne hanno fatto finta di niente cioè nel senso manco li hanno letti manco li hanno guardati cioè c'è stata un'evoluzione una costruzione di una ideologia molto precisa io ho inviato un articolo in lista che era quell'articolo che avrebbero voluto pubblicare se avessero vinto facilmente che sperano di ripubblicare in forma diversa in cui questa ideologia a cosa è arrivata si capisce abbastanza bene quindi io mi permetto davvero di insisto però ho visto anche quello della sera poi l'ha ripreso il giorno dopo è davvero un documento abbastanza un articolo documento abbastanza straordinario per rendersi conto di quali sono i piani di Putin ecco mi allacciavo a questo vabbè una breve cenno ha risposto molto bene Simone penetrazione tedesca regami della Germania la penetrazione tedesca è molto più forte in Russia come dicevano la Merkel e come si è visto anche con i leader social democratici i primi mesi era assolutamente filo russo la Merkel ha dovuto fare uno sforzo enorme per imporre le sanzioni alla Russia io mi ricordo parlando con alcuni grandi industriali tedeschi a Berlino nel 2014 il loro malumore era fortissimo nei confronti della politica della Merkel perché gli investimenti tedeschi in Russia sono enormemente maggiori degli investimenti tedeschi in Ucraina ma questo non vuol dire niente secondo me perché gli investimenti insomma non credo che questo sia come dire semplicemente per dire che gli interessi sono differenziali ecco la cosa di Putin mi permette di affrontare da un altro punto di vista una domanda a cui già risposto molto bene Niccolò se uno legge quel documento e poi va a leggere i documenti precedenti di Putin si rende conto che Putin è passato lentamente alla convinzione di poter fare quello che può fare che ha fatto adesso non perché ha paura della Nato ma perché disprezzava la Nato e l'Occidente questo disprezzo è cresciuto costantemente se sono i documenti a partire dal 2004-05 insieme sia alla preoccupazione per la rivoluzione arancione per le rivoluzioni colorate cosiddette ma c'è un disprezzo di un Occidente corrotto finito morto che dà dritti infami alle persone di corruzione anche sessuale sono discorsi anche abbastanza impressionanti quando li legge per cui in Mosca sarebbe diciamo una tradizione una difesa dei veri valori cristiani eccetera eccetera ma c'è un disprezzo fortissimo che è nutrito poi soprattutto dalle scelte devo dire di Obama in Siria che sicuramente sono forse il turning point diciamo il momento in cui Putin decide che se gli Stati Uniti permettono a Assad dopo avergli detto l'avrebbero bombardato di usare i gas segnano un salto di qualità enorme come lo segna poi l'Afghanistan cioè Putin si sente autorizzato a fare quello che ha fatto da una analisi non la retorica che usa per l'Occidente la minaccia ma da un'analisi oggi posso rifare quella cosa e voglio fare che non è l'impero zarista come diceva giustamente Alberto la posso rifare perché l'Occidente è in crisi tanto è vero che la Russia facendo questo può fondare un nuovo ordine mondiale che è il discorso ufficiale putiniano noi vogliamo un nuovo ordine mondiale in cui fra l'altro si dice all'Europa oggi Putin si sente tradito all'Europa dall'Unione Europea perché dice come voi invece di stare con me cacciando via gli angloamericani che sono diciamo i vecchi padroni dell'ordine mondiale vi mettete con loro no? cioè la cosa lui si sente io credo tradito in questo sulla questione dei gruppi di destra ha risposto bene Simone io mi rimetterò a dire che insomma non per fare il discorso la trave della pagliuzza ma insomma noi abbiamo un'Ucraina in questo momento ha un presidente ebreo se non sbaglio Simone mi corregge un primo ministro ebreo anche mi pare no no non più non più però ha avuto un primo ministro ebreo fino a poi c'è stato un periodo era il primo ministro diciamo della presidenta l'ultimo quindi c'è stato un momento chiedo ha avuto un primo ministro e un presidente ebreo in cui la destra estrema c'è il 2% come diceva giustamente Simone rispetto a un'Italia mi permetto di dire io oggi ho parlato della Sapienza sotto un enorme fresco di Sironi con un grande fascio littorio e Mussolini a cavallo in cui le forze di estrema destra si dice così nazionaliste a voler essere buoni superano il 20% in cui io credo che un presidente la Repubblica diciamo sì non so come dire religione etnia come si dice non credo a queste cose ebraico non avrebbe molte speranze di essere eletto quindi mi sembra anche qui c'è un discorso retorico che dovrebbe fare i conti con una realtà molto probabilmente fra l'altro anche questo presidente ebraico è perfettamente bilingue e ha fatto parte della sua fortuna sempre Simone mi corregge in Russia diciamo con trasmissione anche in russo in realtà è pienamente russofono e ha studiato l'Ucraina non volevo dirlo quando ha voluto fare politica come fanno tutti i politici ucraini quando vogliono fare politica si mettono a studiare l'Ucraino sono cose sono cose che uno dovrebbe sapere perché se no si rischia di di fare sul nazionalismo ucraino questo è un discorso interessante per noi storici credo allora prima di tutto oggi per i ragioni che da questi interventi sono venuti fuori l'Ucraina è molto meno etnica nella sua concezione di quanto non fosse ma io intendo estremamente interessante al punto di vista della della di noi storici l'Ucraina è un classico posto dove nasce un movimento nazionale che è socialista in quasi tutte le sue manifestazioni che prende il potere come movimento socialista e fa la guerra civile come movimento socialista Petriur era un socialista Vinicenco era un socialista tutta la leadership si chiama Repubblica Popolare Ucraina insomma questo movimento sconfitto dai polacchi e dai russi dai sovietici fa una virata in senso revisionista e diventa negli anni 20 e 30 come movimento sconfitto movimento che era nazionale e socialista diventa nazionalsocialista tra virgolette prima fascistoide ma questo lo fa anche il movimento nazionale arabo Sadat e Nasser collaboravano diciamo lo fanno tutti quelli che hanno interesse non è per giustificarlo però è per capirlo cioè c'è un'evoluzione di movimenti che nascono movimenti nazionali socialisti che di fronte alle condizioni degli anni 20 30 in Ucraina la tragica sconfitta sia in Polonia che in Unione Sovietica che assume certi valori e li perde poi dopo la seconda guerra mondiale cioè sono oggetti in evoluzione uno deve sempre pensare che abbiamo a che fare con oggetti storici in evoluzione anche l'ideologia del nazionalismo è evoluzione del resto questo lo vediamo anche in Italia l'ultima cosa sulla chiesa che sicuramente Simona conosce meglio di me però lì il problema è molto delicato infatti ed è molto interessante perché le autocefalie sono sempre state contestate l'autocefalia bulgara è stata una bomba l'autocefalia russa l'autocefalia macedone è stata nella storia del movimento ortodosso del mondo della chiesa ortodossa le autocefalie sono sempre state come dire problemi drammatici di rottura nel caso ucraino-russa ancora più interessante per una ragione che forse noi storici sarebbe bene sarebbe interessantissimo studiare ma insomma se si può parlare di genocidio negli anni trenta l'Unione Sovietica io credo che ormai la comunità degli studiosi in Italia purtroppo queste cose arrivano poco riconosca che nell'Unione Sovietica degli anni trenta ci sono diverse azioni genocidari nel pieno senso del termine quella contro gli ucraini ma quella contro i kazaki ma quella contro per esempio anche la deculachizzazione non la si può definire tecnicamente perché sono definiti socialmente e non etno-religiosamente ma quella contro i tedeschi del Volga adesso sta apparendo sempre più chiaro che può essere vista così fra questi movimenti genocidari degli anni trenta c'è sicuramente quanto la chiesa ortodossa russa in proporzione la chiesa ortodossa russa è la chiesa più colpita dalla ripressione staliniana io credo che ammazzino l'ottanta per cento del clero forse l'ottantacinque molto più anche dei socialisti rivoluzionari e degli anarchici allora vorrei finire perché è super interessante la chiesa ortodossa distrutta è ricreata da Stalin nel quarantatré Adriano Rocucci ha scritto un bellissimo libro su questo si ritrova a avere più parrocchie in Ucraina quelle russe sono sempre state come dire represse perché in Ucraina durante l'occupazione tedesca eccetera erano state riaperte Stalin poi non le ha chiuse quando torna perché aveva regittimato la chiesa ortodossa russa quindi la chiesa ortodossa russa si ritrova che ha più come dire fedeli, preti, proprietà in Ucraina che non in Russia e questo sicuramente crea delle contraddizioni enormi che stanno venendo oggi alla luce ecco io finisco ho detto queste poche cose perché mi sembrano tutte cose molto interessanti e io sono sempre stato un vinto della storia Ucraina è una delle grandi storie che occorre sapere per capire la storia europea dell'otto novecento davvero invito tutti a leggere per avere dei riferimenti su questa storia perché apre la vista anche sulla nostra in tanti modi io ringrazio moltissimo tutti i partecipanti ringrazio la Sisco enormemente ringrazio i più di quattrocento soci e non solo che ci hanno seguito e spero che insomma se ci saranno altre richieste sono sicuro che tutti noi diciamo specialisti se la presidente il direttivo lo credesse potremmo organizzare dei webinar magari più tematici più diciamo su aspetti più particolari grazie mille alla Sisco quindi a tutti voi e a chi ci ha ascoltato buona serata arrivederci grazie a tutti